E ora finiamo questa puntata con una novità del mondo delle moto e con una nuova collaborazione, un nuovo prodotto nato dalla collaborazione di M.V. Augusta e Pirelli. I brand italiani M.V. Augusta e Pirelli hanno ideato una versione speciale dell'ultima Naked della casa di Schiranna. Diablo brutale, come è stato ribattezzato questo esemplare unico, è un omaggio al design, all'artigianalità, alla sportività e all'alto contenuto tecnologico dell'ultimo nato tra gli pneumatici supersportivi della famiglia Diablo. La brutale 800, una moto il cui progetto originario risale al 2001 e che anno dopo anno ha saputo rinnovarsi nello stile e nello spirito, cambiando totalmente per rimanere fedele a se stessa, alla sua capacità di stupire e di conquistare nuove generazioni di appassionati. In questo modo finiamo la quindicesima puntata di Motor News dell'anno 2016 e se volete continuare a seguirci noi saremo qui la settimana prossima con altre novità del mondo dei motori. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.